Sono stati oltre 50 gli interventi conclusi dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro a causa delle condizioni meteoavverse imperversate durante la notte tra domenica e lunedì. La zona maggiormente interessata è stata la località di Simeri Mare nel comune di Simeri Cricchi. Gli interventi hanno riguardato persone, smottamenti, allagamenti e verifiche effettuate dalle 35 unità dei Vigili del Fuoco che sin da domenica sera hanno operato ininterrottamente per far fronte alle numerose richieste di soccorso. Ai vari interventi si sono poi aggiunti quelli che hanno riguardato i prosciugamenti che si sono protratti per tutta la giornata di lunedì. Inoltre le unità speleoalpino fluviali, sempre dei Vigili del Fuoco, hanno poi provveduto con l'utilizzo di comuni a raggiungere le abitazioni isolate a causa delle vie di accesso allagate portando in zona sicura gli abitanti, molti dei quali, accortisi di quanto stava accadendo, si sono rifugiati nei piani alti degli edifici o addirittura sui tetti. Nel frattempo, per far fronte alla situazione emergenziale venutasi a creare, si è provveduto al raddoppio dei turni di servizio delle unità dei Vigili del Fuoco, mentre nella zona colpita dall'alluvione sono giunte in serata le colonne faro per permettere il prosieguo delle operazioni anche nelle ore notturne.